E' la cosa oltretutto che, ecco lì, io stasera vado a mangiare il sushi E vado e vado e per la prima volta a mangiarlo con una mia amica Ah quando l'ho detto ai miei ragazzi era felice perché dice guarda preferisco che esci con una tua amica piuttosto Che stremmare da mattina a sera Sì sì, quindi io benvengo Vabbè vabbè giusto No ragazzi, sinceramente non capisco Non capisco le ragazze barra i ragazzi a cui dà fastidio quando la propria ragazza barra il ragazzo esce con un amico barra amico E' perché non si fidano, vuol dire che pensi in malafede Esatto, perché ragazzi fondamentalmente manca la fiducia in quel caso Quindi bisogna farsi un bel esame di coscienza e dire Esatto Ma io ci trovo bene con questa persona Tanto, io voglio dire, parliamoci chiaramente di una cosa Cioè il, come si dice, il senso Non so come chiamarli insomma Lo stimolo ecco Ovviamente al volere procreare Quello lo sia sempre a prescindere C'è una cosa che ci viene in noi La differenza è che noi contro gli animali Non troviamo tutti quelli che troviamo Perché c'è l'etica, c'è il cervello Tutte quelle cose lì Esatto Poi c'è da dire pure comunque che Come dire Sono Cioè Alla fine Molte persone capita questa cosa solamente perché appunto non si fidano Oddio, devo pullare Ragazzi Non è che se io ho un'amica Allora automaticamente E' perché me la voglio scopare Oppure perché voglio da dire alla mia ragazza Cioè Nel senso Io per esempio la mia migliore amica la conosco Club, vorrei farti notare che per pingarci Mentre ci ha pingato Ha anche fatto la Q verso di noi Mentre ci pingava Ho visto, ho visto Ho visto No, ma allora Mezz'ora firma a scrivere thank you Guarda No, ascoltate Allora, a quale fedeltà basta un bicchiere in più e via No, secondo me No Lì è se sei Com'è che si dice Se sei insoddisfatto Se sei soddisfatto della tua vita sessuale Non hai bisogno di Trembarti un'altra Se non sei soddisfatto Magari lì Parte quello Ma poi comunque sia In generale dipende Cioè se esci con un'amica Non ti vai a ubriacare Esatto A meno che non venga in discoteca Cioè quello è un altro conto Però se vai Se vai a far festa Diciamo che quello in generale Cioè devi saperlo Di sapere quello che fai Se sei fidanzato di norma Non vai lì a sfondarti Io mi preoccuperei Se non Se non dovessi soddisfare la mia ragazza Cioè se non soddisfatte Il vostro ragazzo Bara la vostra ragazza Allora lì sì Che dovete preoccuparvi Ma se lo fate Siete consapevoli Della vostra Che la vostra relazione va bene Non dovete preoccupare Ho detto ragazzi Questa mia amica Che conosco da quando siamo nati Cioè ci conosciamo da sempre Da quando abbiamo zero anni Veramente Perché si conoscevano i genitori E quindi Cioè io che lei la frequento Una volta Una volta ogni Una settimana O due settimane Ci vediamo Ma andiamo a mangiare Una cosa insieme Ridiamo Scherziamo E basta Ma che cazzo dite Cos'è Per te Cioè Esci come ragazza Devi trombarla A prescindere dello status Non ha senso Anche perché Lei per me è tipo una sorella Non è che Io anche sono un fratello quasi Quindi Non ha veramente senso questa cosa Ah Nel frattempo Abbiamo boccati a dovere qua Quando sei ubriaco Fai solo Quello che vuoi fare Che vuoi veramente fare Nel profondo Ah Non guarda Nel senso Oddio Dipende Sì appunto Dipende solamente se Se sei insoddisfatto Lo fai Eh sì Cioè nel senso Io A me va già bene Con la mia ragazza Non ho bisogno di cercare Ne altre Cioè secondo me Ti vai a cercare le altre Perché non ti va bene Secondo me Voi parlate così Primo perché non siete fidanzati E magari le ragazze Le ragazze Non le vedete nemmeno col binocolo E a parte questo Magari non siete soddisfatti Della vostra situazione In generale Poi c'è da dire Poi ragazzi Che fondamentalmente Fidati Quando siete fidanzati Cioè Mi rendete conto Anche voi stessi Che Cioè Non è che potete sempre Stare solo con la vostra ragazza E non uscire mai con gli amici Cioè È normale Che poi dovete uscire Con qualcuno E se nel gruppo C'è anche una ragazza Che succede Oddio Oddio Con una ragazza Se mi sentite Parle ai due uomo Oh sei un nemese del pride E quindi Fatti sì Occhio 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 C'è Masterchef Scappa Tutti fermi Eccoli lì Ah Mi ha preso Ah Quanto sono lento Ahia Ah basta Bisogna scoparli tutti Sì sì Tu fai lo spaccafiga Scuetto Che non la vedi nemmeno Con il cannocchiare Ma questo lo rompiamo Ecco qua Uno Maga c'ho lì al tanto Due Vai A posto Ecco C'è il flash Ecco Peccato Arrivederci Va bene Comunque è stato bored Disruti Disruti Perfetto Ottimo gank Devo dire Sì Molto bravi Hanno usato tutto Io andrei back Clapperò Poi quando ho visto Il flash exhaust Di zona È stato bellissimo Flash exhaust Di zona Prima gli amici Poi la t Questo è quello che penso io No io C'è Purtroppo per fortuna Non la penso Ah meno male C'è che cartus è andato ad aiutare hash Se non davano a fare giustamente Bravo Beh doveva dare una kill giustamente Cartus hash nope Però dai la killata Tutto sommato Vabbè dai ci sta ci sta Mi sa che faccio No Prendo prima questo E poi inizio a fare la protobelt Ah così Vai Doppia pozione Io no ragazzi Da quel punto di vista Metto prima Prima Diciamo tra virgolette Il mio Il mio stato sentimentale La mia relazione Però non Nel senso che Nel nostro tempo Non coltivo Non coltivo gli amici Cioè Di norma Io penso Prima a vedere la mia ragazza Poi Gli altri giorni Quando Gli altri giorni Mi organizzo In base a quando Vedo la mia ragazza Fondamentalmente Io metto Poi a me Poi la droga Poi la figa Eh Siamo in streaming Questa cosa no Raga ma la storia Di conquistare le tipe Troppo verrete La figa si fa Che sia Che tragici Che siete comunque Mi dispiace davvero Alle medie Non è così facile Conquistarle Capito Purtroppo Per mentalità Come le vostre Prosperano Pagine come Ed è subito Ex Io a parte Che non la conosco Ma che cazzo Di Sì la conosco Io no Che cos'è E praticamente Su quelle cose lì Tipo Le figure di merda Con Le Con La propria ragazza Ragazzo Eccetera E tipo Oppure Quando Che ne so La tua ragazza Dice una certa cosa E tu dici Ed è subito Ex Quando lei dice Sta cosa Che cringe Per me quelle pagine Sono una cringiata Pazzesca E la gente Che ci mette like E' peggio Sì Boh A me faranno Soltanto ridere Le cose che Che scrivono Quando dicono Tipo Quella volta In cui lei Mi chiese Di infilarle Una banana Nel culo Sembra le cose Di in segreto Le mazze da golf Le mazze da baseball E da golf Quelle so Ah la chat Ah ok Sì sì Ah no Ok la chat Non noi Sì 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 Prende la chat E quelli che Oh Questo è dive No la ultima Esagerata Io manco l'ho usata Vabbè Non importa Ah Ho salvato Bevendo Arriva qualcuno Lasro Di lì che venga Vabbè Tempo andrà in base Ulti di over Ragazzi Io ho fatto tutta la gomma Perché ho detto Vabbè Magari Oh Oh Eccolo 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 Me rimango Eh Flash Oh Oh pardon Eh sicuro lo trovo No ma c'è la passiva Purtroppo Guarda che sta Nella mia ulti Questo E poi Eh vabbè Guarda quanto spamme Ne ping Din 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 Brum Ah Flashate Din Din Brum Mamma mia Din 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 Grazie clap Che alimenti Il disagio Mi sto Medizzando Scusa Questo Ma i pesci bevono Ma questo non c'ha vita No vai back Vai back Attenzione Ok no Vai Mamma che bello Victor Mi piace troppo Come sempre Hai visto Questi provarono Il laserone È fighissimo Come provarlo L'ho giocato per una male di tempo C'ho un master i5 Sul me Ce l'ho Lo conosco molto bene Victor Come funziona Vediamo la ultima Dice me la shotto Aspetto te dai Qua si stanno creando Dei dibattiti Su Dei dibattiti Su Quello che abbiamo detto Prima Però Non sto Ho fatto una quantità di danno Assurda Sono delle cose Che la pe sono un po' Troppo illegali Qua Sì Sì Per me Stiamo esagerando Questa è un po' Un'esagerazione Ma ti ricordi quando Perdevamo di tutte le partite Con le bot così Dove rompevamo tutti E poi Ah ma perché eravamo In gold Vabbè sì però Qualcuno Un teso ci ha pingati Sta pingando tutto Eh ma perché eravamo Come si dice Con gli account in gold Vabbè sì Quindi per esempio Il nostro team Era comunque iron Ma gli altri invece Erano un po' Più tra Più meno così Vabbè rompio 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 Stop ping Qua C'è stupato Dai puoi mutarli ping Un can Aspetta Un can New Laseriamo Laseriamo sta bitch Ma sono andata Sono andata a Ah no è top È qua È lì a fare casino Ecco qua Parte il dive Quando vuoi Ti seguo Allora Ecco Ok Oddio Il flash in avanti Ah Grazie Mamma mi ha salvato sulla fascia Eh purtroppo quello slow È stato un po' fastidioso Eh sì Eh sì Le ultioni in faccia Che ti ha fatto Boom Adesso scriverà report suona guarda 3 2 1 Where is my support Back Grazie lost Totomas Mamma in base Allora Se non mi piace Non gli do chance Questo è il discorso Di che puoi stare solo Aspetta Non ho capito Voglio unirmi anch'io Il discorso Però Non capisco Giustamente Mille gold Mi costa questo Oh Allora Cosa sono Stepping Aspetta Wait Ecco qua Allora Ability power Che mi compra adesso Se mi prendo questo Vai Prendiamoci questo Bella Ragnard Grazie 10 mesi Grazie mille Ma se Ma senti quanto pingano Clap Guarda la cia Deen Deen Bentornato Deen Oh Oh Arrivo Rikisousa Andato bene Raga Zed Bravo Rikisousa E io c'ho un sub Che si chiama Rikisousa Però non so se è lo stesso Eh questo potrebbe essere Guarda lì Si chiama Rikisousa 77 Ma non mi all'ho spaccato Ste voli 6-1 XD Guarda come si vanta Che bravo A parte che sei due Fiaso in iron ragazzi Oh Oddio Ecco Arrivederci Tempo del clear Vai Oh Non mi aspettavo Asce davanti Mannaggia L'ha fatto lì Un po' di pinga Adesso a sinistra Oh Attenzione Vedi come si muove Ja so che me pinga Pure che sta arrivando Sta lì E me pinga Che sta arrivando Forse i twin shadow Sono esagerate Ma le facciamo Falle falle Andiamo ai twin shadow Sorry Pure sorry Chance di dare una persona Che non ti interessa Ma cosa c'entra Come siamo arrivati a pari quello No se una persona non ti piace Non devi dare le chance Cioè Non ti piace Io ho presciato perché c'erano i million davanti Avrebbe su i million C'è cartus sta andando in giro con lei attiva E non sta finendo il bar Eh ho capito Però non ha comunque Cosa deve staccare Cosa deve staccare What Ma Cartus giungla mica se la fa Se la scordate Ma non si fa la goccia Su cartus giungla Lo so perché Eh se non c'è mano Guarda Ti ho detto Perché Ricordati che l'era un 4 nativo Questo Eh bene bene È un esemplare In mia destinzione Eh sì Eh sì Renek Undertower Please Bravo E' fatto bene Rischio Bentornato Qua comunque Inciotto da McClub La conversazione Degenerata Eh sì Pradimento ragazzi Diceva che almeno Una chance di stitare Invece giustamente Tizio ha detto Non ha senso Se non ti interessa Non pur Punto Ah beh Eh sì Ah qua Siamo Oh aspetto Siamo arrivati Sul filosofico Oh Eh mi sa che sei ripato Eh Forza di leggere Se stronzate Comunque Guarda 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 E non è nemmeno Il Mejai Che spreco Non ti ho insegnato bene Eh no Sul panzone Stavi già Più di venti Eh sul panzone Cosa Eh no No 180 da P No Io sono Dell'idea Che se una ragazza Non ti piace L'aspetto fisico Inutile anche Dare una chance Cioè scusa Non ti piace No a quello No a quello Quello Non Non Deve Sare Anzione Esatto Non siamo Mi che tempi Di dante No Cioè se non Se non ti piace Non è che vai lì a Diana chance Cioè ok Può essere simpatica Può ti può piacere Dal di carattere Però Cioè se ti fa schifo Non riesce manca a guardarla Dipende a che livello Cioè magari ti può piacere È una di quelle ragazze guardabili Che magari ecco Ti può piacere di Che ne so Di carattere Quindi alla fine Fai la somma di tutto quanto E dici Vabbè ci può stare Però Alla fine Massimo Ci stai bene insieme Cioè ci stai bene come amiche Però se Se non mi piace Vabbè ma Ci puoi anche stare insieme Però purché Ti piaccia un minimo Cioè magari ti piace molto Di carattere Molto di tutto quanto Ma Qua c'è Volibear Ecco Arrivederci Zittito Riprendiamoci sto Maggiare Che abbiamo perso Leggendo ste stranzate Vai Faccio il giro eh Guarda qui Eh io non ci sto Ho trovato Volibear Davanti con un HP Hello Quattro stack di Maggiare Ecco qua Bruh Vai vai Namo Sta morendo dalla mia ulti Guarda Ecco qua è tutto per te Ah questa io con Ah con lo scotch l'ho preso L'ho giustata Troppo forte lo scotch Gragas 1 Uno è di sapi Ma non ero sapi Quello sta 4-0 Clap È fiddato Vapore Tempo di rompermi Ho perso per l'inesima volta il Maggiare Però Tocca a fare la zona Eh ho trovato lì ragazzi Volibear si è haintato Basta Questo Facciamoci Dai adesso lo prendo in Maggiare Ecco Fatto eh Va bene È un po' tardi Però va bene Ormai l'ho fatto Rick per una volta ha carriato Ah Rick per una volta è carriato Io Beh mo carriato Io sto facendo un support Che poi Gragas non è il support Gragas è il È l'ADC Io sono il support Infatti vedi C'ho anche C'ho oggetto da support C'ho le Twin Shadows Io sono support ragazzi Che you feed Come can you feed Carthus Che vuol dire Devo darle chi la carthus Vuole che feed Che feed sto tizio Non posso mica Morire Cioè non posso mica Dargli le kill Noi siamo nel suo team Eh sì Can you feed Carthus Tan 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 Eeeh Ecco qui È sparita Boh ragazzo È 08 Sta povera so Tutti indignati Pure Pure Reneco Che lol Ecco qui Arrivederci Eeeh Oh Ecco fatto He's dead Easy Beh Ash Che sta a fa Così per me GG Eeeh Ma comunque sto Yasuo è molto Dm Deve dire Sì sì È il momento di rompere Sono appena arriva Soro non ti faccio male Giuro Eeeh Guarda come Guarda come dirà le botte Sì C'è un basta Sono Oh Oddio Ah Madonna Questo shot Ma botte Nei se comic show Ehi Suona suona Eero suona Suona che ti passa Mo non suona più Mo non suona più Sì Non suona più Ah Don Eh mi hanno tolto le stack Ragazzi Ficca miseria Eh Che vergogna Eh La maledizione del mege Appena lo fa Inizia a morire Ficca miseria A di rispetto Time for shot down mate Che vergogna Facciamo la donna Io non lo dirà me più Ok E' detto Thank you for shot down eh Io Sinceramente Mi farei disespectare No problem man Anytime Scrivi Quando you want a coach Tell you Eh yes And You want E Wukong Wukong Watching Contact me Only Twenty Twenty Dollars Per Hour Klappe ha iniziato a sparastronzare Quel bel momento 20 dollari Allora Mauro c'è domani sera Facciamo le reaction Eh Siamo passati Ah Ah Just been in this place before Para 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 Occhio Arrivo Arrivo Aiuto Eccolo Eccolo lì A posto Easy Beh Oh Oddio E' sparito Magia Questa Si Di Dietro Con le tue Meccaniche Visto Ah 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 I'll drink you under the table scrub Oh ma questa Vabbè sono state Zero undice Questa cosa Zona in Zona inting Boom Goodbye Thank you Wukong for the shutdown Ah no Ah no Sei Sei troppo povero Ah 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 C'è la torre Eeeh Bobby Eh tanco io Vabbè Stavo tancando la torre Oddio Oh E' partito Aiuto Aiuto Arrivano un po' tutti Prego Boom No Madonna Presa Presa Mi ha messo l'exhaust in tempo Bravo Tuk Wow Hai visto che main E' tornato dentro la base Bravo Dove merita di stare In the base Ecco Arriva Vuk Arriva Vuk Eh Allora Che facciamo Vukong Ecco Ecco cosa facciamo Ah Thanks for Ah no niente No niente shutdown Mi dispiace What the fuck Vukong Sembrava più bravo Invece no Eh E' facile fare 4-0 Contra quelli Renekton Vero Non ha nemmeno una Clap su 43 kill Renekton non ha nemmeno un assist Su 43 kill What can I do If my teammates are so bad Comunque il clap e la mia chat sono passati a sostenere un ragazzo che dice Sei ancora giovane Avrei tante possibilità Non sta succedendo No sta succedendo Non lo so nemmeno io Non so come descrivere Stanno succedendo cose strane Vabbè Ok Mi limita a dire ok campione Ability power Spellbind Ma in realtà dovrei prendere Aspetta no io dovrei prendere il mio oggetto Qua Aiuto Aiuto Pendo No è impesso No Niente pendo Peccato Cioè se mi riuscivo a ammazzare il lupo devo fare pendo sul sono L'ho semplificato molto E una ragazza non ha detto Eh ragazzi Voi non mi spiegate cosa succede Quindi io leggo ogni tanto e capisco quello I'll kill you another 10 times so you can get the next shutdown Cazzo devo scrivergli così è vero Ah I'm not a child La loro bot sta 4-11-0-13 I can kill you 10 more times so that you can get Shut down on me Is it ok for you? Clap vai in iron per prendere per il culo E poi dicono di me Eh Tutti li fai sugli iron La frustrazione Beh Vabbè io ho letto il consiglio di Nick e l'ho scritto Ah sì il consiglio di Nick Eh sì È solo una scusa Eh buongiorno la signor Anna No la signor Anna è morta Siamo a 4 volte a cagare oggi Mamma mia questi Ma che è? Una pogna Eh come me Io cago una volta al giorno se va bene Se va bene E tutta la roba che mangi Dove fai tutti i panini che mangi Panino di ieri sera Al pieno di ieri l'altro clap Eh Infatti oggi dovrei andarci Ah Ai 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 Noo un HP Muore Ha più tracciato di me Sto coglione Dove pensi di andare Sì Sì Bobby Dove fare la zona Sì Bobby Va bene Bobby va bene Stavo facendo il comeback Hai visto Eh non c'era Non c'era Iaso ragazzi Non ci si 4 io Ti manca l'intestino Ragazzi a me Le cose che magno Le vanno direttamente nel retto E vengono espulse Le espello Le espello Le espello Le espello Dai fuori della pelle Sotto forma di cancer Bello Valerio sasso Leona con la P con Gragas E una bot rotta Leona con la P con Gragas Eh Beh è rotta per forza Bastia Stunna tutti È normale Guarda guarda Din 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 Tuk tuk Si sente morto GG Sì Jarl Guarda qua Vediamo il grafico dei danni Cazzo Non posso andare Non posso andare Ah non posso andare su continuo Dove è andato il cursore Clap Dove Dove è finito Dove è finito Guarda il grafico dei danni Bravi Bravi dai Renexon ha fatto più danni di Sona Ma ha preso un assist Renexon 4 assist Bronzo 2 Oddio Clap C'è Sona 015 Che ha detto Completely useless IDC Guarda Dani Ho fatto più danni di me comunque E io ho preso triple honor Beh Che dire Grazie a tutti